Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Fall Guys, signori, è uscita la season 3 e noi l'abbiamo scaricata e installata, quindi oggi le andremo a vedere un attimino e poi andremo a fare una partita, sperando che questa volta ci vada bene. Prima di partire dal video, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale in generale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941 e mi trovate anche sul sito viola, quello delle stream come Maullo, sempre come Maullo941 e lì facciamo anche qualche live ogni tanto, ma le facciamo anche qui su YouTube, quindi tenetevi aggiornati e attivate la campanellina per essere informati su qualsiasi avvenimento che avviene. Dei tuoi signori, non perdiamo altro tempo, partiamo con il video! Ok signori, siamo nell'intro, nel lobby dei Fall Guys della stagione 3, siamo su un fiocco di neve, che cosa carina! Con il nostro colore blu ci mimetizziamo con lo sfondo, simpatico! Allora, a sinistra ci sono le corone, non abbiamo mai vinto nemmeno una, davvero? Assurdo! Siamo tornati al livello 1, che cosa carina! Quindi abbiamo perso proprio i livelli che abbiamo riuscito così a fare, vestiti non c'è niente dintro, sono sempre quelli che abbiamo noi, e questi sono quindi niente da fare, interface va bene, simpatici, vediamo i vari livelli, ci sbloccano a livello 2 il colore arancione, a livello 3 una corona, a livello 4 il vestito da calzini, a livello 5 lo sfondo con la pallina, il vestito da Boba Natale, che cosa carina signori, dovremmo riuscire ad arrivare fino al livello 9, non ci arriveremo mai prima di Natale, non so quanto dura 68 giorni, in 68 giorni non penso di riuscire mai ad arrivare al livello 9, che cosa simpatica! Vediamo invece che cosa ci sono le cose che possiamo comprare, possiamo comprare il vestito da elfo signori, noi abbiamo 9.290 monete viola, con 3.500 ci viene il vestito da elfo, lo prendiamo il vestito da elfo con i pantaloni, ma sì signori, compriamole qualcosa qui su questo gioco, dai così, compra, 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 dai così, perfetto, abbiamo comprato il vestito da elfo, perfetto, bella cretinata che abbiamo appena fatto signori, ma ce ne freghiamo, la nostra tic tac blu, la nostra tic tac diventa un elfo signori, dai così, pantaloni e pantaloni, sì no, pantaloni, questo, bello così, il nostro effetto c'è, il nostro effetto c'è, la tic tac è diventata un elfo blu, che cosa simpatica, gli occhi sono sempre bianchi, va bene signori, detto questo primo cambio di abito, sistemazione generale, io direi di non perdere tempo, partire, vediamo se troviamo qualche partita, vediamo che siamo simpatici, la nostra tic tac elfetica, elfetica non si può sentire, elfosa, ecco, 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 la tic tac natalizia, no, la tic tac natalizia non mi piace nemmeno, la tic tac elfica, ecco, la tic tac elfica, l'abbiamo trovata, dai, 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 oh, ok, forse abbiamo trovato il primo livello, che cos'è questa cosa, Tundra Run, livelli nuovi signori, che cosa carina, livelli nuovi, vediamo cosa succede con questi livelli nuovi, Tundra Run, sta ancora cercando i giocatori, ok, calma, che cazzarola è, allora, così a vista prima occhiata non sembra complicatissimo, non sembra complicatissimo, signori, anche se ho paura, ho paura perché sto parlando troppo presto, perfetto, la nostra tic tac elfica è pronta, signori, si parte, easy, busy, lemon, squeeze, andiamo, 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 arrivano delle palle di neve che dobbiamo evitare in tutti i modi, ok, ci sono degli ostacoli, non sto capendo niente, troppa confusione, va bene, va bene, via via, no, dai, gira, 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 in quanto ci qualificiamo? In 41, ok, aia, 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 c'avevo la palla di neve in faccia, dai, così, dai, così, dai, così, che è andata bene, è andata bene, ok, e qua ci siamo arrivati, ora che dobbiamo fare? Allora, qui c'è già chi sta andando oltre, praticamente, ai, ai, no, no, fermo, 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 no, va bene, va bene, super, super, riesci a salire di qua, dai, 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 e non ti farei schiacciare a muro, ok, ci abbiamo fatto il livello superato, livello superato, alzati, 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 che dobbiamo fare? Andiamo, andiamo, andiamo laterali, signori, mi sembra la scelta, la scelta più, se questo evita, no, 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 ok, era il ghiaccio, signore, che cosa carina, invece del, no, che calma, evitiamo le, no, che cazzola, perché mi, eh, perché, perché, perché scivolo, ma che cazzola sta succedendo? Ok, ce l'abbiamo fatta, ma l'abbiamo semplicemente a prendere, no, aspetta, non ho già capito nulla, come funziona questa cosa? Dai, salta, salta, no, signori, mi sto, mi sto innervosendo, mi sto innervosendo, come funziona questa cazzarola? No, 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 come funzionano queste piattaforme? Non capisco come funzionano le piattaforme, no, 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 signori, non possiamo perdere, dopo abbiamo fatto bene il livello, No, 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 40, no, non ci credo, non ci credo, signori, mamma mia, che cosa brutta, ma come cazzola funzionano queste piattaforme? Non ci ho capito nulla, ma no, 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 non può andare così, non può andare così, no, no, facciamo un altro, facciamo un altro, perché ho fatto palesemente schifo, neanche 30 punti per, ah no, ok, 30 punti, perfetto, abbiamo preso il primo livello, arancione, non lo voglio l'arancione, il prossimo è a 60, 30 già ce li abbiamo, ok, va bene, dai, 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 torniamo, torniamo con il prossimo livello, signori, veloce, 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 questa era di riscaldamento, questa era di riscaldamento, no, di nuovo, no, no, di nuovo, no, no, di nuovo, no, ma che bastardata, vero, due su due, va bene che è il livello nuovo della nuova season, però cazzarò, spararmelo così subito, due volte su due, è proprio da, da pazzi sclerati, vabbè, è un segno del destino, signori, è un segno del destino, dobbiamo riuscire a superare questo livello, è un segno, se riesci a caricare, dai, ce l'abbiamo fatta, forse devo lanciarmi, forse, forse devo fare il tuffo a pesciolino, forse appena partire la cosa, devo fare il tuffo a pesciolino, e stare andato sull'altra, sull'altra piattaforma, boh, qualcosa ci dobbiamo inventare, signori, non ricordo nemmeno come si fa il tuffo a pesciolino, vediamo un attimino, il tuffo a pesciolino si fa con, no, così va a chiappo, come si fa il tuffo a pesciolino, no, così vedo, no, no, così ho dato una testata, come si faceva il tuffo a pesciolino, ah, col quadrato, ok, ok, col quadrato si fa il tuffo a pesciolino, evitiamo, evitiamo le palle di neve, cortesemente, grazie, ok, ai, 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 palla, 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 evitiamo le palle di neve, no, precise in faccia, dai, levatevi, mannaggia a voi, dai, 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 ce la possiamo fare, passiamo di qua, io, io ci credo, io ci credo, io ci, mamma mia, come ci credo male, però, dai, dai, ma perché non si levano, se si levavano, era molto più facile tutto, occhio che mo questo lo spara, ah, ok, se andiamo a filo riusciamo a passare, se andiamo a filo riusciamo a passare, ma dobbiamo un attimo passare, da sono, io, mannaggia, non vedevo assolutamente nulla, ma perché, ah, ancora non si è qualificato nessuno, l'importante è che ancora non si è qualificato nessuno, questa è la cosa fondamentale, occhio, occhio alla facciata, ok, calma, 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 l'abbiamo superato sulla, abbiamo superato sulla curva, signori, buona cosa, buona cosa, dai, 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 perché non riesco a salire, mannaggia, dai, 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 occhio, ah, dai, 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 bella così, calma, 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 no, perché arrivo qua e muoio, qualcuno me lo spiega, perché non riesco a fare sto salto, mannaggia, vai, fermi, 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 vediamo che fa lui, vai, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, signori, quarantesimo, mi sono qualificato come ultimo, spettacolo, spettacolo, ok, 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 come quarantesimo, però va bene, abbiamo un elfa a fianco a noi, ok, ok, mamma mia, non ci ho capito nulla, quindi forse tu devi saltarci di sopra, e farti sparare in alto, buh, quando ci ricapiterà di rigiocarci, cercheremo di capire come cazzarola funziona questo livello, vediamo qual è il prossimo, signori, dai, ci sono dei livelli nuovi, ho intravisto qualche nuova immagine, cosa, cos'è, frizzy peak, frizzy, frizzy peak, ma no, 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 ma che cos'è, ma di che stiamo parlando, c'è il camino praticamente, c'è il fumo che ti spara verso l'alto, spettacolo, ci sono impegnati, ma qui ognuno parte da un lato della pista, perfetto, ok, ah, che rottore di scato, mi hanno messo stai piattaforme, ok, calma, 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 stiamo andando bene, stiamo andando bene, occhio al pupazzo di neve, che lo vedo dietro, non mi piace per nulla, ok, dai così, dai così, ok, no, 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 io seguo la massa, signori, io seguo la massa, seguo la massa, ok, no, 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 devi volare, bravo, bravo, voliamo ancora, voliamo ancora, vola giusto, però, no, non così stupida, tic tac, elfetica, elfosa, che cazzarola di tic tac era? tic tac elfica, ah, era una tic tac elfica, no, ma dai, ma sei stupida, ma sei proprio stupida nella testa, dai, dai così, dai così, perché riusciamo a fare il primo, riusciamo a farlo bene, oh, ok, stavolta ci siamo riusciti, dai, 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 non ricordavo che riuscisse a saltare così tanto questa tic tac, ok, ok, fermo, calma, 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 facciamocelo con calma, signori, non ci, eccolo come è volato via, vedete perché lo dobbiamo fare con calma, abbiamo Sonic a fianco, se Sonic va piano, possiamo andarci anche noi piano, calma, calma signori, calma, 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 ok, ok, zitti, zitti, signori, zitti, no, dove sto andando, no, ripiglia, 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 di là, di là, di là, ok, no, non ci credo, eliminato, no, bah, non ci posso credere, signori, eravamo arrivati, eravamo arrivati, quello c'è la pancia con le uova di Natale, signori, eravamo arrivati, eliminati per pochissimo, per il rotto della cuffia, signori, per pochissimo, e vabbè, due livelli questa volta superati, riusciamo a prendere 50 punti, saliamo a livello 3, prendiamo una corona, che cosa carina, non so a cosa ci possa servire, ci servono, next, ok, colori nuovi, vabbè, noi ci teniamo il colore tic tac, tic tac, tic tac coso, signori, due corone, vi diamo, non ho capito, vabbè, lo capirò andando avanti, signori, lo capirò andando avanti, va bene signori, detto questo, io vi ringrazio, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggeriti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale, per un prossimo contenuto, bella raga, ciao, ciao.